Mi chiamo Roberto Rodolfi e arrivo da Bergamo. Io sono manager che gestisco uno studio in provincia in un paese di 3500 abitanti. Lo studio è presente da 15 anni. In realtà parto da una posizione dove il fatturato, che deve e può sempre aumentare, non è il primo dei problemi, il primo degli obiettivi che mi hanno portato qui a Lental Lead, ma è il progetto di ampliare lo studio, progetto barra necessità. Oggi è lo studio di una poltrona che fattura circa 32 mila euro al mese e la qualità della vita e della gestione di tutto quello che la clinica e lo studio è scarsa, precaria. Facciamo dalle 11 alle 13 ore al giorno, non chiudiamo mai prima dalle 21 e 30, lavoriamo i sabati fino alle 13 alle 14 e comincio a sentirmi un po' con le spalle contro il muro. Ritengo di essere stato abbastanza bravo fino ad oggi, ma ritengo anche che da solo oltre non riesco non riesco a andare, non riesco a migliorare. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a capire quali possono essere i meccanismi che possono portare a un'organizzazione di uno studio più grande senza morirci dentro sostanzialmente. Dental Lead l'ho conosciuto quest'estate, ho trovato il libro credo in Facebook, l'ho comprato subito, me lo sono portato al mare e l'ho letto in quattro giorni circa. Il mio problema principale mentre ero l'ora al mare era il fatto che dovevo stare al mare ancora qualche giorno, perché mi ha aperto la mente. Penso di aver compilato, scritto due quaderni di appunti tratti dal libro e quando il fine agosto abbiamo riaperto ho introdotto, cercando di interpretare al meglio i messaggi che c'erano sul libro, tre, quattro soluzioni. Eppure essendo soluzioni un po' zoppe, un po' non ero belle precise come sicuramente potrò fare da lunedì, mi hanno cambiato tantissimo. E' stata un'illuminazione. Solo con queste piccole cose la qualità della vita di mia e di chi lavora all'interno studio sono migliorate in maniera incredibile ed esponenziale. Il corso che sto facendo ora è a tratti illuminante, diciamo che tendenzialmente la mia lista di cose da fare, che avevo preparato prima del corso, il corso mi sta dando tutte le risposte, perché diciamo che da parte mia ero compiaciuto del fatto di avere la consapevolezza di cosa io avevo bisogno e l'ho ritenuto già un grande passo. Dentalide mi sta dando tutte le risposte, quindi tendenzialmente da lunedì cambierà ancora totalmente il mio modo di gestire lo studio e quindi sono molto molto soddisfatto. Lo consiglio non a tutti, lo consiglio a chi ha un'apertura mentale sulla professione diversa e ampia. Sono disposti a mettere in discussione tutti i preconcetti che hanno caratterizzato la loro carriera fino ad oggi perché ti cambia veramente la vita lavorativa ma anche quella personale. Grazie Grazie Grazie